Via Ferrante Via Ferrante Mi verrebbe la voglia di raccontare una storiella Come tutte le storielle le fallo e si incomincia C'era una volta E c'era una volta, anzi c'erano una volta Tanti canali che scendevano dalle montagne E trasportavano l'acqua piovane, i detriti Camminavano costeggiando la città di Pagani E portavano le acque piovane e i detriti in Vasca Pignataro Oggi Vasca Pignataro, Arena Pignataro E' diventato uno spiazzo bellissimo Dove si può fare di tutto e di più Ma i canali purtroppo Sono, non dico scomparsi del tutto Qualcuno esiste ancora Esiste nella misura in cui però sono diventati Dei veri e propri sversatoi Via Ferrante, se non mi sbaglio Questo dovrebbe essere il Santa Maria delle Grazie Il nostro operatore ve lo sta facendo vedere Che cosa cercate? C'è bisogno di andare al mercatino delle pulci? Ma qui trovate di tutto Volete un materasso? Subito Non ve lo posso prendere perché pesa un poco Volete un bidone perché vi serve Perché dovete metterci qualcosa dentro? Subito Vi accontento subito E quant'altro volete chiedere? L'ho trovato qua dentro In più In quella piccola oasi di verde A ridosso di una delle palazzine Addirittura c'è una bomboletta Di quelle che si usano per il campeggio Bomboletta di gas Ma la cosa che ci ha fatto venire qua E che ci preoccupa E ha preoccupato alcune signori Che ci hanno telefonato E' questa cassetta Credo che il nostro operatore Ve l'abbia già mostrata Eccola qua E' una cassetta Che sta a ridosso Di questo parapetto Attenzione non toccare Io cerco di muoverla Ma non si muove da terra Non so che cosa ci sia dentro Per la verità Ha suscitato un poco La preoccupazione di alcune mamme Che stanno nei pressi Noi siamo venuti Per dimostrarvi Quando ancora c'è da fare In questa città E allora su Diamoci una mano tutti quanti Aiutiamoci tutti quanti E facciamo in modo Che in questa città Non si scoprano Cose che non danno Certamente piacere Né alla vista Né alla salute Senza fare Assolutamente Falso allarmismo Noi abbiamo chiamato Già i Vigili Urbani Quindi capirete Per farla rimuovere E allora Ufficio Regrani Ancora una volta Siamo presenti Grazie a tutti Grazie.